ma buongiorno pupe siamo a lunedì 11 dicembre e oggi riprendiamo con il terzo blogmas questo weekend non ha registrato per nulla non sono presa per lavorare editare video stare un po con amici e family e oggi un attimo riprendo tutto il ritmo della settimana si va in palestra si blogga lavora oggi questo è il vibe il tampone del massimo questo weekend ha fatto un tempo meraviglioso però adesso ci fa iniziare lunedì un po così un po moggio moggio capite che vi dicevo riguardo al meteo oggi abbiamo anche i calendari dell'avvento ad aprile perché questo weekend non li ho aperti cioè mi sembra di averli aperti forse venerdì però poi sabato e domenica no mi sa o forse sabato 6 ieri domenica non ho aperto i calendari quindi oggi abbiamo da recuperare quelle quindi più tardi faremo anche quello ma prima breakfast per colazione faccio il mio solito porridge questo con la farina questa oatmeal al brownie che è buonissima la mischio con cacao altra farina da vino al come poi si aggiunga anche un po d'acqua e diventa tipo un porridge questo brownie super denso buonissimo me lo faccio al microonde ragazze ho una notizia pazzesca da darvi perché finalmente riesco a ribere il caffè ho capito come farmelo in modo che mi piaccia e non mi dia fastidio praticamente faccio la cialda quella piccolina quella proprio da espresso e poi aggiungo l'acqua per farlo un po più americano perché non c'erano più lungo il latte per trovare questo latte buonissimo che poi faccio dire niente in questo domenica come lo faccio e mi piace un sacco non mi da fastidio stamattina ho lavorato alla tesi tutta questa mattina e sto facendo eppure ieri ho fatto una chiusa a bestiare perché in teoria manca un mesetto e quindi sì devo un attimo tiracchiude quindi questo è l'update tra poco poi vi preparo fare in palestra questa è la cialda orafio di un espresso buonissima andiamo in palestra mi sento carica oggi mi sento carica assurdo perché secondo me è stato il weekend il periodo di stop del weekend che mi dato la carica adesso per riprendere è la seconda tisana che mi faccio questo pomeriggio questa qua è quella con sto fico miele e non mi ricordo che cos'altro della twinings un imposo molto buono e niente che ho fatto oggi pomeriggio ho fatto la tesi e poi ho sistemato un attimo il vlogmas precedente di questo che devo finire di editare alcune cose poi domani vado a farmi le unghiette e le farò a tema più natalizio penso sono ancora indecisa su quali farmi un paio di idee ma ecco sicuro le accorcio un po' perché sono cresciute tanto tanto e quindi si devo accorciarle poi ho anche editato oggi in realtà un po' del morettino dei formatori che sto facendo per instagram che voglio postare domani e poi domani si sarà una giornatina in cui ho un pochino di cosine da fare e penso quindi la mattina sarà sotto infaniata tra esterista poi devo passare da Tizenis devo fare un cambio perché altro giorno sono passata da Tizenis per toccare il regalo di Natale di mio fratello che lì ho preso un paio di pigiame solo che con un sopra ho sbagliato la taglia quindi devo andare a prendere quella oltre a quello poi domani sicuro devo continuare con la tesi perché devo finire questo terzo capitolo così rendere il tutto al prof sentire lui che mi dice a riguardo e poi vedere un attimo come procedere perché appunto come vi dicevo siamo agli scoccioli e come dolcetto serale mi sono fatta una bowl con vera, yogurt greco, noci di macadamia, cioccolato fondente, cannella e questo sciroppo qua troppo buono, cioccolato e cocco e se l'hanno in pista in questo periodo con le noci brasiliane queste qua sono buonissime vediamo hanno tipo un retro gusto dolcino caramellato buonissimo iniziamo la mattinata con il mio amato porridge e il secondo libro della saga throne of glass che anche qua sono al 70% molto molto bello mi piace un sacco queste paga e anche oggi un'altra giornata con il meteo parecchio peggio però fa caldo cioè non fa freddo il che non mi dispiace quindi quello top peccato perché comunque preferisco il sole ovviamente ma va bene l'importante è che non piova perché la pioggia è la cosa che detesto più di tutte eccomi in pupe sono rientrata da tutti i vari giretti che dovevo fare ho fatto le unghie sono passata da tezzanese a fare quel cambio che dovevo ma a parte questo vi faccio vedere le unghiette non è che avessi così tanta fantasia questa volta quindi abbiamo già rupare un po di glitter cose così per farle in talizia e alla fine vi faccio vedere come come le ho fatte dirmi che ne pensate fatemi sapere anche come le avete fatte voi per questo notale così ci diamo inspo a vicenda anche se penso io queste ormai mi ritengo fino all'anno nuovo eccole qua tutte un po glitterose ma molto semplici e diciamo nude con questo glitter dorato secondo me molto festivo che dite adesso prendiamo i calendari dell'avvento e oggi siamo al 12 dicembre io non li apro da sabato sabato ore 9 quindi abbiamo tre giorni scoperti iniziamo come sempre da quello di bio snail e vediamo che cosa ci sta qua in realtà fa giorni alterni quindi non dovrei aver perso troppe caselle ecco qua abbiamo quello dell'undici che cos'è è una crema mani idratante che carine queste servono sempre non le tiene borsa e le usi appunto quando quando servono soprattutto adesso fa freddino così le mani non si seccano troppo e ora veniamo al look fantastic che cosa ci sarà qua abbiamo per qua il 10 11 e 12 quindi tre caselle ragazzi miei tre caselle cerchiamole insieme ok il 10 davvero è qua qua abbiamo la 10 che cosa c'è wow 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 mega mushroom allora vediamo un po' questa mega mushroom lì ora ci manca l'undici e il 12 qua abbiamo l'undici oh adoro quando ci stanno due prodotti e poi ragazzi miei c'è ho già visto amo questo brand nello scorso video vi ho fatto vedere l'unboxing cioè l'haul delle cose che avevo preso per il black friday e mi ero presa lo spray e qua abbiamo shampoo e balsamo poi formato viaggio troppo cute questi li porterò sempre con me anche perché quelli dell'albergo non sono mai troppo buoni 12 eccolo questo qua è il 12 oh bello ecco ma cioè sto carinale è proprio il mio eh ho trovato nude stitz gel color lip cheek balm è praticamente una matita oh matitona per le labbra di questo brand nude stitz nude bellissimo e questo era il 12 è più tardi pure sono passate un bel po' di ore da quando abbiamo aperto i calendari dell'avvento ma ho preparato la cena e volevo far vedere che cosa avevo preparato perché è venuto bene almeno esteticamente e parlo di questo tofu qua saltato molto easy e ora assaggio vedo se ne vale la pena e in caso poi vi condividerò la ricetta e eccoci qua questa mattina con il nostro solito porridge però questa mattina ho fatto con la pera piuttosto che con la mela così per cambiare mi sentivo in vena di novità diciamo e qua continuo con la lettura stiamo all'82% ed è bellissimo e rieccoci qua solita posizione solita colazione solito libro che sto per finire sicuramente per finire questa settimana ormai lo sto leggendo ogni sera quando trovo il libro che mi piace poi faccio presto a trovare il tempo per leggerlo quindi quando mangio leggo prima di andare a dormire leggo così e questo mi sta piacendo un sacco poi voglio farvi il video dei miei preferiti del 2023 e anche magari un video solo riguardo ai libri che ho letto nel 2023 anche se mi ero dato l'obiettivo di leggere i 50 ma saranno tipo intorno a non so 26 devo contarvi un attimo vediamo anche fino a quanto arrivo durante la fine dell'anno io adesso leggo e mi gozo la mia colazione buonissima finito l'allenamento infatti le mie condizioni sono abbastanza pietose però oggi è andato bene sono contenta di come sia andata sono finalmente riuscita a progredire con la hip thrust che era da un po' che non ci riuscivo e di poco cioè di solito facevo 100 kg e di solito sono riuscita a farne 105 8-10 ripetizioni cavolo non me le sono segnate in ogni caso bene e quindi quello mi ha reso contenta e niente adesso torno a casa pranzo cioè mi sistemo mi lavo pranzo e poi dopo mi rimetto a lavorare ho la tesi ho da editare quindi c'è un po' di cosine da fare buongiorno Pube questa mattina non ho ripreso molto perché a parte le solite cose ho lavorato alla tesi e poi ci stava la ragazza che ci dava una mano a fare le pulizie a casa e quindi era un po' tutto sotto sopra allora Pube eccoci qua perché è arrivato il pacco di Prozis e quindi potevo scherzarlo con voi dato che siamo in tema di regali allora allora iniziamo con questo qua che è l'olio di cocco che lo prendo da un bel po' ma lo volevo prendere perché ah si può usare in tantissime preparazioni in cucina questo va benissimo anche per cucinarci le cose proprio metterle in perella e scaldarlo perché a differenza dell'olio d'oliva ha un punto di fumo più alto e quindi reagisce meglio al calore quello per cui lo volevo usare io è questa nuova cosa che ho trovato dato che sono un po' una self freak prima di te ci fai il mouth cow wash una cosa così io lo facevo qualche anno fa e praticamente quello che fai la mattina appena sveglia prendi un cucchiaio di olio di cocco lo metti in bocca ti fai tipo una specie di lavaggio della bocca con questo lo tieni qualche minuto e fai due cose e ti fa togliere tutti i batteri che si formano durante la notte nella bocca ed è molto meglio di utilizzare colluttorio perché il colluttorio ti danneggia proprio la flora della bocca perché ammazza i batteri sia buoni sia cattivi poi si può usare anche per i capelli ha tantissimi utifizi questo è proprio un pass per tu per la bellezza ovviamente louis peanut butter il barattolo quello gigantic perché finisce subito cioè mi sa già nello scorso unboxing nel mese scorso l'avevo preso pie 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 ho preso sempre in tema burry un bel po' questa volta perché ho preso anche questo qua anacardi che è buonissimo il cashew butter buonissimo questo che è un po' più particolare che è sempre peanut butter quindi sempre burro di rachidi ma con il cocco quindi è super buono lui che è tra i miei prefer quello al pistacchio lo adoro questo sarà il mio vegan brownie buonissimo poi ho preso due di questi così per preverceli che sono dei noodles ma di konjac che hanno praticamente zero calorie sono dei noodles certo non avranno proprio la consistenza dei noodles per i propri sono un po' commosetti però insomma ci sta quando vuoi provare a farti una cosetta leggera sono meglio di noodles normale però non so dire quelle cose così ogni tanto mi fanno comodo quando magari mancano verdure a casa per avere qualche fibra in più ai piatti perché questi hanno un sacco di fibre ci sono questi che sono buonissimi e io questi li tengo qua in borsa un po' così me li porto in giro quando sto in giro appunto oppure quando voglio di uno snack nel pomeriggio così questi sono comodi e sono dei buffer senza zucchero e sono pure proteici poi ho preso un po' di pacchettini di queste che sono le proteine quelle vegane che io amo e le uso per fare i miei porridge quando non lo faccio con l'album lo faccio con le proteine con le proteine vegane quando lo preferisco perché viene proprio cremoso e ho preso quelle gusto chocolate chip che sono buonissime quindi queste qua ho preso tre e tre di quelle invece soccorre a caramello buonissime anche queste altro snack questo perché adesso viene Giulio e lui questi li ha provati la scorsa volta e ha detto che erano buonissimi li ricordavano proprio i cookies quelli americani baked cookies sono biscottoni con le gocce di cioccolato però sono senza zucchero e poi qua ci sono un po' di integratori abbiamo il collagene che questo fa benissimo per pelle legamenti sempre argomento pelle un altro integratore che fa benissimo è l'acido di alluronico questo sia lo uso nella mia routine tra creme e cose così sia le bocca e poi i miei amati omega 3 questi non possono mai mancare fanno benissimo per le funzioni cognitive cervello quindi ma anche per a livello beauty quindi unghie pelle capelli questi aiutano tantissimo io prendo un gioco di liestream che sono quelli che ad osaggio più alto bene questo era l'unboxing di tutto ragazzi adesso passo e chiudo spero che questo video vi sia piaciuto se è così mi raccomando lasciateci il like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo molto presto sicuramente farò almeno un altro video prima dell'anno nuovo quindi sì comunque ci sentiamo su oggi perché la vi ritengo aggiornate quotidianamente e alla prossima bucù ciao 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 ciao